Sono fuori di me Bevo un altro caffè Tanto non dormo prima delle sei Ehi, ehi, ehi Ho bisogno di te Un secondo bebè Finisco questa serie In quarant'anni fanno tutti così Già dal letto neanche di venerdì Quel corpo sta fermo e la mente si stressa Attendo un'altra news in TV Sembra quella di ieri, solo molto più in Sei out se esci di casa Out se esci di casa Tutti stravolti dalla situazione Nella bulla di casa esplode ogni emozione E allora cerchiamo info sul web Cyber ipocondria Ve la butto qui Il covid può essere asintomatico Non andare a mai cercare Non andare a mai cercare Non andare a mai cercare Ehi, sintomi su internet Non andare a mai cercare Ehi, ehi E allora no ma ci si Dov'è che ci siamo visti? Meglio se Ci becchiamo nella video Nella video lunedì E allora no ma ci si Tu gira i reti edifici Meglio se Chiudiamo tutte le pagine E guardiamo un'altra serie Un'altra serie Netflix Un'altra serie Netflix Un'altra serie Netflix Quarto circuito Siamo al punto di partenza Le vite vanno in fumo Come se fosse una terza guerra Non puoi controllare questa situazione Ci sei dentro fino all'esplosione Ci sei dentro fino all'esposizione Non andare a mai cercare Non andare a mai cercare Non andare a mai cercare I sintomi su internet Non andare a mai cercare Ehi, ehi E allora no ma ci si Dov'è che ci siamo visti? Meglio se Ci becchiamo nella video Nella video lunedì E allora no ma ci si Tu giri in rete e ti fissi Meglio se Chiudiamo tutte le pagine E guardiamo un'altra serie Un'altra serie Netflix Un'altra serie Netflix Un'altra serie Netflix Un'altra serie Netflix Eeeh Un'altra serie Netflix Un'altra serie Netflix Un'altra serie Netflix Grazie a tutti